In studio Valentina Frasca. Stava rientrando insieme ad altri colleghi dalle operazioni di spegnimento di un incendio quando per causa in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato e ha schiacciato la cabina di guida. Ferita gravemente un'altra donna di 53 anni di modica ora ricoverata all'ospedale Canizzaro di Catania. Gli altri forestali sono feriti ma in maniera più lieve. Anche il presidente della regione Renato Schifani ha espresso il proprio cordoglio per questa tragedia. Ce ne parla il direttore Catiuscia Carpentieri. Non ce l'ha fatta Marinella Sigona, 55 anni, forestale di Giarratana che ha perso la vita nell'incidente stradale autonomo sulla SS 194 La Ragusa Catania. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla Ragusa Catania come detto quando per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa e della stazione di Monte Rosso Almo l'automezzo boschivo si è ribaltato uccidendo la signora Sigona e ferendo altri sei forestali che si trovavano all'interno del mezzo. Sul posto immediatamente l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e della forestale di Ragusa. I sette stavano rientrando da un intervento dove avevano spento un incendio incontrato a fiume Miele quando il mezzo si è rovesciato sulla carreggiata finendo la propria corsa e ribaltandosi completamente schiacciando la cabina di guida. Marinella Sigona che non era alla guida del mezzo è morta sul colpo mentre le altre persone sono rimaste ferite. Una 53enne di Modica che era invece alla guida dell'autobotte è rimasta ferita in modo grave ma non è in pericolo di vita. È stata trasferita in risoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania dove arrivata in codice rosso ha riportato politraumi. Tutti gli altri feriti in modo lieve sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti presso gli ospedali di Modica e Ragusa. Il mezzo è stato sequestrato per capire adesso se si sia trattato di un guasto meccanico. E su quanto accaduto arriva il cordoglio del presidente della regione siciliana Renato Schifani aprendo con grande dolore la notizia della morte dell'operaia della squadra antincendio della forestale. Una tragedia che colpisce ancora una volta purtroppo coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell'ambiente. Alla sua famiglia e i suoi colleghi va il mio personale cordoglio, quello del governo regionale e di tutta la comunità siciliana. Agli altri operai vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, conclude Schifani. È stata eseguita questa mattina l'autopsia sul corpo di Marisa Leo, vittima di femminicidio a Mazzara del Vallo. L'esame si è svolto all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, dove la salma era stata trasferita sabato dal cimitero di Marsala. Ed intanto parla il fratello di Marisa, Mauro Leo. Le sue parole sono molto toccanti, invitano alla riflessione. L'uomo fa anche sapere di avere chiesto l'affidamento della nipotina. È stata eseguita questa mattina l'autopsia sul corpo di Marisa Leo, uccisa mercoledì nel Trapanese dall'ex convivente Angelo Reina, padre della sua bambina di quattro anni, che poi si è tolto la vita. L'esame autoptico si è svolto all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, dove la salma era stata trasferita sabato scorso dal cimitero di Marsala. Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire sull'omicidio-suicidio e alcune risposte potrebbero arrivare proprio dall'esame eseguito oggi. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Marsala e intanto in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera parla Mauro Leo, fratello di Marisa. Il copione di queste tragedie è sempre lo stesso. C'è quasi sempre un uomo che non si rassegna a vedere la sua donna indipendente, incapace di capire che quando cessa l'amore si possono avere rapporti civili e ognuno può decidere la propria strada, la propria vita. Mentre celebriamo con dolente affetto la vita di una donna strappataria da un maschio violento continua, C'è un'altra donna, chissà dove, che cammina, respira, sorride, la possibile futura vittima di un nuovo femminicidio. Noi tutti non avvertiamo la gravità del pericolo. Mauro Leo fa poi sapere di aver chiesto l'affidamento della figlioletta di Marisa, rimasta orfana di entrambi i genitori, in un istante. La nostra nipotina non resterà mai sola, dice. Io mi considero già padre e madre della mia nipotina. E da Mirabella in Baccari arriva l'ennesimo caso di maltrattamenti sulla compagna. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la donna alla presenza dei tre figli piccoli. Maltrattamenti in famiglia in danno della compagna alla presenza dei tre figli minorenni di 7, 5 e 3 anni. I carabinieri della stazione di Mirabella in Baccari hanno arrestato un 33enne dopo la richiesta di aiuto avanzata dalla donna. Che ha contattato direttamente la locale caserma carabinieri spiegando al militare in servizio con la voce singhiozzante per il pianto di essere stata aggredita dal compagno. Immediatamente i militari si sono recati presso l'abitazione. Hanno trovato la donna seduta su un divano che stingeva tra le braccia i tre figli in teneretà. Mentre l'uomo ancora inveiva contro di lei nonostante l'arrivo dei carabinieri che hanno cercato di ricondurlo alla calma. La vittima presentava sul collo e sulla guancia i segni della violenza subita. Ha raccontato di aver avuto l'ennesima discussione con il compagno a causa della cura degli affari domestici. Il litigio è degenerato e il compagno l'avrebbe dapprima aggredita verbalmente per poi passare le mani alla presenza dei tre bambini. Con fatiche i carabinieri sono riusciti a ricondurre il giovane alla ragione al punto che nonostante la loro presenza questi continuava ad offendere la compagna per poi sferrare un pugno contro una porta di legno. La donna una volta tranquillizzatasi ha riferito ai militari di una relazione costellata di aggressioni da parte del compagno. L'uomo adesso si trova nel carcere di Caltagirone. C'è un collegamento con Ustica nell'esposto che un gruppo di familiari delle vittime della Uno Bianca ha presentato alla procura di Bologna chiedendo di riaprire le indagini. Il filo tra le due vicende riguarda la figura di Roberto Savi, ex poliziotto all'ergastolo che avrebbe a disposizione delle informazioni. Con certezza Roberto Savi nell'ambito dei rapporti che intratteneva con fonti e mondi legati ai servizi di sicurezza si legge nel dossier ha avuto modo di intercettare notizie relative alla strage di Ustica che solo nell'ambito di alcune agenzie e contesti operativi potevano girare nei primi anni 90. Savi indicò una zona montuosa dove un mirage francese coinvolto nell'azione che causò l'abbattimento del DC-9 di Ustica avrebbe sganciato un serbatoio supplementare. Savi avrebbe anche detto di avere pilotato lui il mirage partito da Tolone ed effettivamente alcuni rottami del velivolo vennero poi rinvenuti in quella zona ma non furono collegati a Ustica. E cambiamo argomento, è stato il primo giorno di scuola oggi per molti studenti siciliani. E' suonata la campanella in Sicilia per moltissimi studenti. La nostra regione è tra le ultime in cui ragazze e ragazze ritornano tra i banchi di scuola. Grazie all'autonomia scolastica infatti i dirigenti delle scuole hanno approntato calendari diversi ma quasi tutti sono rientrati a scuola anche perché devono essere garantiti 200 giorni di attività scolastica previsti dalla legge e l'ultimo giorno è già fissato per l'8 giugno. Tra le novità di questo nuovo anno scolastico poi attenzione alla condotta e al rispetto delle regole. alla luce dei fatti di violenza e bullismo che si sono registrati in molte scuole italiane. Allo studio anche un disegno di legge che disciplini le sospensioni degli studenti. Oggi è stato il primo giorno di scuola anche per molte scuole secondarie di secondo grado. Un anno scolastico ricco di aspettative così come ci dicono alunni e alunne e per alcuni di loro questo sarà l'anno della maturità. Che anno vi aspettate? Non lo so, penso più difficile degli altri però comunque siamo tosti. Un po' di scoperte, cose nuove anche perché dobbiamo decidere poi per l'università quindi un po' diverso rispetto agli altri, ecco più responsabilità. È ovvio che dovremmo impegnarci noi ma sarebbe carino anche che avessimo un po' di aiuto da parte dei professori. Io sto vivendo la cosa molto tranquillamente, penso che sia anche una sensazione generale ancora è settembre. Si vedrà già verso aprile, si inizierà a sentire l'ansia pre-esame, vedremo. Stamattina siete arrivati presto, c'è la corsa per conquistare l'ultimo banco. Sì, è la cosa fondamentale. A dare il benvenuto è il dirigente scolastico. Io mi faccio il giro delle classi per parlare con loro e come ha detto lei, per impostare il loro percorso di tutto l'anno scolastico, fatto di regole, fatto di studio, fatto anche di affettività direi perché ci vuole tanto in questo momento dove gli affetti, i sentimenti sembrano sgredolarsi con quello che sta succedendo. Per gli studenti catanesi è arrivato anche il messaggio all'Arcivescovo Renna che ricordando l'esempio di Don Nampino Puglisi augura che ogni scuola sia illuminata al sorriso contagioso che riscatta altre vite, che traspaia nell'impegno dei docenti e nella gioia di tutti i ragazzi. Sono rientrati in classe anche gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Raffaele, poi domani di Modica, accolti naturalmente dalla preside Veronica Veneziano ma anche dalla sindaca Maria Monisteri. E c'erano anche le nostre telecamere. Stamattina quando sono entrata comunque appunto ero molto emozionata e un po' ansiosa anche perché è appunto il mio primo giorno e quindi insomma con un ambiente scolastico nuovo, una scuola molto più grande di quella di prima. Suona la campanella per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Si ritorna sui banchi di scuola con tante speranze ed emozioni. Tra le scuole che questa mattina hanno aperto le porte per accogliere alunni e docenti, l'istituto comprensivo Raffaele, poi domani di Modica. Un augurio è stato rivolto dalla dirigente scolastica Veronica Veneziano e dal sindaco Maria Monisteri che nel cortile del plesso Giovanni Falcone hanno incontrato gli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado. Visibilmente emozionata la dirigente veneziana alla guida da quest'anno dell'istituto che comprende 1600 studenti, prima diretto dalla dirigente Concetta Spadaro, andata in pensione. Sono veramente emozionata e anche orgogliosa di dirigere una scuola così grande. Anche il mio pensiero, il mio augurio non va solo alla comunità modicana ma anche alla comunità pozzellese che ho diretto per ben otto anni e tante novità. Posso spoilerare qualcosa come l'introduzione di un indirizzo linguistico, di un augurio di tante cose belle, ricche di esperienze, un augurio costruttivo di un anno sereno. Vi auguro tutto il meglio. Come immagini questo primo anno scolastico? Con tante nuove esperienze, c'è compagni appunto nuovi, professori nuovi, un bell'anno scolastico. Considerando tutte le idee che sono state proposte finora, me lo immagino molto innovativo, moderno e soprattutto diverso rispetto agli altri, molto diverso. Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, insieme all'assessore alle politiche sociali Chiara Facello, anche domani visiterà gli istituti della città per augurare un buon inizio anno agli studenti e alle famiglie. L'augurio agli alunni di viverlo in serenità, con la sana curiosità di apprendere, di conoscere cose nuove e soprattutto della collaborazione, una collaborazione fondamentale già dagli anni che si è a scuola che poi si manifesterà nella maniera, penso, migliore, con il più grande senso civico, un giorno quando saranno degli adulti. Si torna a scuola, dunque, e dato l'aumento dei casi di Covid-19, noi abbiamo sentito il professore Maurizio Fransò, presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi in Sicilia, che rassicura e fa sapere come dirigenti siamo pronti a far fronte ad ogni tipo di emergenza, ma al momento la situazione è tranquilla. Avevano creato un po' di preoccupazione sabato scorso le parole di Mario Rusconi, che, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Presidi, alla luce dell'aumento dei casi Covid-19 in concomitanza con la riapertura delle scuole, aveva annunciato la distribuzione di mascherine e gel disinfettante nei plessi scolastici, consigliandone l'utilizzo a docenti e alunni con fragilità. Oggi a gettare acqua sul fuoco è il professore Maurizio Fransò, presidente regionale dell'Associazione in Sicilia, il quale fa sapere che la situazione è tranquilla, che nulla si farà senza direttive dall'alto e che comunque, grazie ai protocolli, i dirigenti sono pronti a far fronte ad ogni eventuale emergenza. La nostra posizione ufficiale è quella di essere pronti ad attivare tutti i protocolli in essere, quando le autorità sanitarie ce lo chiederanno. Quindi per adesso niente allarmismi, riprendiamo normalmente in maniera ordinaria, abbiamo delle dotazioni di mascherine, abbiamo i protocolli già collaudati, quindi siamo pronti, però voglio dire iniziamo l'anno scolastico con regolarità e nella normalità. Per quanto riguarda i disinfettanti saranno sempre a disposizione in tutte le istituzioni scolastiche, però non ci sarà una iniziativa personale che possa essere poi dopo interpretata come situazione di allarme, assolutamente. L'assembramento fuori dalle scuole esiste in ogni luogo e in ogni dove, immaginare di poterlo arginare all'interno degli edifici scolastici è impensabile. E sempre a proposito di Covid-19, gli infettivologi invitano alla prudenza ma senza creare allarmismo, la situazione negli ospedali infatti è tranquilla, c'è solo un po' di preoccupazione per i mesi invernali quando arriveranno altri tipi di virus. Sono più di 5.500 attualmente i positivi al Covid in Sicilia, nessun allarme ma un invito alla prudenza, soprattutto per i soggetti fragili. Il professore Antonio Cascio conferma che i casi sono di nuovo in aumento, in linea con i dati del resto della nazione e fornisce qualche consiglio utile. Il virus non è andato mai completamente in vacanza, ci sono stati casi anche ad agosto, c'è tutto a luglio, ci sono stati ragazzi che sono andati in viaggio e hanno contratto l'infezione o quando erano sulla nave, sull'aereo o nel luogo di vacanza, quindi non è mai scomparso. Ora stiamo osservando che c'è un aumento dei casi, sono varianti un po' blande, però purtroppo anche una variante blanda, una persona molto fragile può provocare delle serie conseguenze per tanti motivi. Non c'è da fare allarmismo, terrorismo, questo no, però nello stesso tempo è giusto raccomandare alle persone più fragili, insomma più anziane di vaccinarsi, cercare di stare lontano dai posti affollati e indossare le mascherine se salgono sull'autobus o sono in posti affollati. La situazione negli ospedali comunque è tranquilla, c'è preoccupazione però per i mesi invernali quando subentreranno anche gli altri virus influenzali. Sicuramente negli ospedali i casi ricoverati sono in aumento e quindi non dico che ci sono difficoltà, assolutamente no, però comincia a esserci qualche problemino soprattutto per che ti senti più fragili. Il fatto che il virus sia endemico significa il fatto che c'è sempre, non è che significa che è sparito. Ci aspettiamo un ulteriore aumento dei casi nelle prossime settimane. E dopo il terribile terremoto che ha devastato il Marocco c'è molta ansia e molta preoccupazione tra i marocchini che vivono a Catania, noi ne abbiamo intervistati alcuni, la Sicilia è pronta a mandare aiuti. Si guarda il telegiornale per sapere cosa succede in Marocco, siete preoccupati? Sì, 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 la famiglia è tutta, sono tutti uguali. Anche lei col telegiornale sul telefonino perché purtroppo il bilancio aumenta sempre. Il bilancio aumenta sempre, stamattina erano più di 2.100 morte, abbiamo perso anche dei familiari, io personalmente ho dei familiari che vivono in Francia, appena sposati hanno voluto fare il viaggio di nozze in Marocco e hanno perso le vite entrambi. Veramente è una tragedia inaspettata, un terremoto di tale dimensione, non l'abbiamo mai vissuto. Testimonianze forti, quelle che arrivano da alcuni marocchini che vivono a Catania. Dolore e ansia per chi è in Marocco, per parenti e amici che hanno perso tutto a causa del terribile terremoto che ha colpito il Marocco nella notte tra venerdì e sabato. Circa 2.500 le vittime, un numero che potrebbe salire considerando che si continua a scavare tra le macerie e circa 2.500 anche i feriti. Una terra martoriata, distrutta, dove è difficile trovare cibo e acqua. Diversi stati che si stanno prodigando per mandare aiuti dal Marocco, compresa l'Italia, pronta a inviare uomini, tende e attrezzature anche per creare posti letto e aiutare il popolo marocchino disperato per l'immane tragedia. Dolore che si vive anche a distanza perché sono tante le comunità marocchine sparse nel mondo, alcune delle quali anche in Sicilia. Così come ci racconta il capo della Moschea della Misericordia di Catania, la più grande del sud Italia, che ricorda come ci sia un conto corrente sempre attivo e che i soldi serviranno anche per spedire beni di prima necessità. Come comunità islamica di Sicilia, anche a livello nazionale l'Unione delle Comunità Islamiche di Sicilia ha subito lanciato un appello a tutte le moschee d'Italia di donare per alleviare la sofferenza dei nostri fratelli in Marocco. Nelle zone colpite ci sono delle organizzazioni che stanno operando e siamo in contatto continuo con loro, gli aiuti arrivano. Come ho ribadito, in alcune zone non sono riuscite ad arrivare, si sono messi in fila ad aspettare che vengono aprite delle strade per far arrivare questi aiuti. Nuovamente in protesta i lavoratori della Dusman, che prestano servizio di pulizia e ausiliarato per l'Asp di Catania e denunciano le promesse di fine luglio, non sono state mantenute. Dopo la protesta di qualche settimana fa e le rassicurazioni ricevute dall'Asp, i lavoratori della Dusman, che si occupa di pulizia e ausiliarato per l'azienda sanitaria provinciale, sono scesi nuovamente in strada per una nuova manifestazione di dissenso proprio nei confronti dell'Asp, perché, dicono i lavoratori, non ha mantenuto quanto promesso durante un confronto dopo l'ultima protesta di fine luglio. Ciò che chiedevano e che continuano a chiedere è l'ampliamento delle ore lavorative, considerando che ogni mese accumulano diverse ore di straordinario, richiesta avanzata già da un anno. Proprio in quell'occasione avevano ricevuto rassicurazioni da parte del direttore amministrativo dell'Asp a proposito della firma della delibera che sarebbe dovuta arrivare nei giorni successivi. E invece niente firma e qualcuno ha anche perso il lavoro. Io da un anno che sono con la Dusman, invece di passare indeterminato, sono stata licenziata. Mi sento così un po' oltreggiata. Sono stata sempre presente. Se c'era di fare più ore, sono stata sempre lì. Come hanno motivato questo stop? Dice che non hanno in questo minuto bisogno. Quando il bisogno c'è, i miei colleghi sono in questo minuto in una situazione di fare delle ore in più e anche il mio dottore di lavoro dice che la situazione, soprattutto in estate, con le ferie, con persone che stanno male, è un po' pesante per tutti. Si siamo ritrovati con una riduzione, una contrazione delle ore e questo ha comportato anche una riprogrammazione delle attività lavorative. Quindi tutti i lavoratori si sono rivisti un po' ridurre l'orario di lavoro. La Dusman perché ha fatto questa contrazione di ore? Come lo spiega? Perché almeno dai vertici dell'Asp, da notizie che arrivano, sembrerebbe che abbiano pagato un monte ore inferiore. Qualche minuto di pubblicità, torniamo subito dopo. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Una donna di 60 anni avrebbe istigato alla corruzione un funzionario della prefettura di Catania offrendogli del denaro in cambio di un nulla osta relativo ad una pratica. Per la donna è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Deve rispondere di istigazione alla corruzione propria una collaboratrice di 60 anni di uno studio legale di Catania raggiunta dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG emessa dal GIP del Tribunale Atneo. Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia lo scorso mese di maggio da parte di un funzionario in servizio presso la prefettura di Catania eseguite dalla squadra mobile Etnea che hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero che la donna avrebbe offerto una somma di denaro al funzionario della prefettura allo scopo di ottenere nulla osta di quell'ufficio in relazione ad una pratica di un cittadino extracomunitario per la quale lo sportello unico in migrazione lo scorso 13 gennaio aveva già notificato un avviso del provvedimento di rigetto per difetto dei presupposti di legge. Secondo quanto acquisito l'offerta sarebbe stata formulata mostrando al funzionario un incarto con dentro delle banconote il cui ammontare non veniva specificato dall'indagata ma la prima era del valore di 50 euro che venivano presentati come un pensiero per il funzionario e successivamente a seguito della reazione di quest'ultima e del dirigente dello stesso come una modalità per offrire un caffè o una granita per i funzionari dell'ufficio. Vi raccontiamo adesso la storia di Elia Cavallo un modicano di 27 anni che ha rischiato di morire a causa di un incidente stradale e adesso riesce a correre come una volta. Una bella storia di buona sanità ce la racconta il direttore Catiuscia Carpentieri. Posso dire veramente che ce l'ho fatta nonostante tanti sacrifici. Questa è una delle tante storie che parlano di buona sanità e che hanno un lieto fine. Arriva da Modica e vede protagonista Elia Cavallo, un ragazzo di 27 anni che ha rischiato di morire dopo un incidente stradale in moto nel maggio del 2020. Elia ha riportato fratture multiple e la lesione alla gamba ed è rimasto in coma per 13 giorni. E' stato un calvario di tre anni, grazie ai dottori comunque sono riuscito ad andare avanti, a ritornare a fare una vita normale. Sono riuscito ad andare al lavoro, uscire di nuovo con gli amici, fare veramente quello che le persone hanno per scontato. La storia di Elia è cambiata dopo l'incontro all'ospedale Garibaldi Nesima con il dottore Fulvio Carluzzo, ortopedico e traumatologo, che gli ha salvato l'arto riuscendo così a tornare a camminare. Ringrazio Carluzzo che è stato il primo a cui mi sono affidato e poi ringrazio la mia famiglia, la famiglia della mia ragazza, gli amici che mi hanno aiutato tantissimo in questo cammino. L'uso di una tecnica innovativa, il fissatore esterno con la tecnica dell'ascensore, ha permesso di allungare la gamba di oltre 10 centimetri, con un processo che ha rischiato 90 giorni di impegno e determinazione. L'intervento finale è stato la ricostruzione dell'osso mancante, che ha consentito ad Elia progressivamente di tornare alla sua vita sociale normale. Sono state messe a punto delle tecniche di ricostruzione, sia delle parti molli attraverso back therapy, debridement e sequenziati, sia interventi di ricostruzione ossea attraverso debridement e ricostruzione attraverso tecniche dell'allungamento osseo. Questo ha comportato una fidelizzazione del paziente, che ha mostrato una buona compliance nel gestire queste metodiche e questo lungo iter che ha portato poi alla guarigione del paziente. Già segnalata in buona parte del globo è arrivata anche in Italia ufficialmente la formica di fuoco, estremamente invasiva e pericolosa per ecosistemi ed agricoltura. 88 nidi sono stati individuati proprio in Sicilia, vicino Siracusa, e si tratta del primo avvistamento ufficiale per l'Europa. La formica di fuoco, una delle specie più invasive al mondo, originaria del Sud America, è infine sbarcata in Italia dopo aver già conquistato buona parte del globo. 88 nidi sono stati individuati proprio in Sicilia, vicino Siracusa, e si tratta del primo avvistamento ufficiale per l'Europa. Conosciuta anche come formica guerriera, può diffondersi in maniera estremamente rapida, con impatti notevoli su ecosistemi, agricoltura e salute umana. I principali tipi di danni per l'uomo riguardano le apparecchiature elettriche e di comunicazione. Inoltre, per via del veleno contenuto nell'aculeo e alle colonie, che possono raggiungere centinaia di migliaia di individui, possono avere un impatto anche su animali, giovani, deboli o malati. La formica di fuoco deve il soprannome alla sua caratteristica più nota. Le sue punture sono molto dolorose e possono causare anche gravi reazioni allergiche. Dopo aver visto alcune foto scattate in Sicilia, i ricercatori si sono recati sul posto per confermare l'identità delle formiche. Hanno così trovato 88 nidi in un'area di quasi 5 ettari, ognuno abitato da molte migliaia di formiche e operaie. Parlando con gli abitanti della zona, gli autori dello studio hanno anche scoperto che le prime punture dolorose risalgono almeno al 2019. I primi passi per cercare di fermare l'invasione sono già in atto. È in corso la pianificazione dell'eradicazione ed il monitoraggio della specie da parte della regione siciliana, afferma Mattia Menchetti del LIBE, l'Istituto Spagnolo di Biologia Evoluzionistica. Ma la partecipazione dei cittadini nella segnalazione della possibile presenza della formica potrebbe essere un aiuto prezioso. La Capitaneria di Porto di Pozzallo e i volontari di un'associazione ambientalista hanno recuperato un esemplare di fenicottero che da diverse ore sostava solitario e visibilmente affaticato lungo le banchine del porto commerciale pozzallese. Il volatile è stato poi affidato ai volontari che ne cureranno la reintroduzione in natura presso la riserva naturale dei Pantani, Cuba, Longarini. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e buona serata.